ciao ciao amici allora queste sono dei simpatici ragionamenti che mi sono venuti in mente perché sono un tipo piuttosto bastardo e ci sono alcuni atteggiamenti che sono successi ultimamente che non mi sono piaciuti del tipo ho fatto un video in cui scherzavo sulla prostituzione benissimo puntualmente mi è arrivato un messaggio quanto dai per un'ora online non è che questo mi abbia sconvolto più di tanto perché mi aspettavo che comunque ci fossero battute anche pesanti però quello che vorrei dire a voi maschietti è che non è che se una ragazza si mette a scherzare su certe cose bisogna bisogna dire tutto quello che ci salta per la testa così a cazzo perché io non me la prendo mi frego un cazzo ma un'altra se questo è solo una riflessione mia un'altra cosa no che mi sono dimenticata di dire sull'antica bigotteria del portico perché non la si cazzia mai abbastanza è stato questo fatto io un giorno nel pieno di un'incazzatura ho scritto su facebook sei una ragazza piena di talenti però a noi non ci interessa cosa che mi è stata detta e gli ho detto anche la mia risposta allora quando tu collasserai io invece di usare il mio talento per alzarti le gambe sorriderò e aspetterò che tu creperai è chiaro che io conosco perfettamente il reato di omissione di soccorso però sarebbe tipico della dell'antica bigotteria del portico rompere il cazzo per almeno una mezz'ora con lezioni pallosissime di morale sul fatto che se faccio una cosa del genere finisco dentro e bla 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 e così non ci si comporta e rotture di cazzo semifritte e già perché io non non sono ancora nata e non ho capito ancora niente ho capito poco di come funziona il mondo ma fino a lì guardate che ci sono arrivata però non se la sarebbero fatta scappare l'unica cosa che non l'hanno potuto scrivere perché preventivamente ho bloccato tutte tutte le loro possibilità di rompermi coglioni perché dovete sapere che questi deficienti dopo dieci anni sono venuti anche vedermi su link it cosa cavolo stavo facendo io gli ho proprio chiesto ma ho fatto giusto sono a livello di sfiga che ti aspettavi sono a livello superiore e chissà che che telenovela su di me è andata avanti no cosa che mi fa anche ridere io ne faccio dei video qua perché oggi avevo questa ispirazione di parlare di questa cosa io parlo di quel che cavolo mi passa per la testa in più con tutto che cioè voglio proprio dire una cosa non è che difficile capire come ragiono se io non ti parlo più e quando ti parlo sono un po incazzata ti potrebbe far venire il dubbio che mi stai sul culo non è troppo difficile anche perché non sono una ragazza che è molto in grado di fare così delle trame amorose delle commette no le hanno sempre fatti alle mie spalle non sapevo neanche con chi avevo con chi ero fidanzata fidanzato me lo sceglievano loro per quello che ne sapevo io ero single però insomma loro mi decidevano il flirt alle spalle quindi proprio non sono il tipo da riuscire a fare queste strategie magari magari riuscissi a farle forse piacerebbe più agli uomini invece di stargli così sul culo ha detto questo io vi saluto vi ringrazio vi mando un bacio